Si è tuffata in mare, nelle acque fredde, incurante del pericolo degli scogli che affioravano, ma è stata salvata da un carabiniere che si è gettato in acqua ed è riuscito ad afferrarla. È finita così la fuga di una quindicenne che, insieme ad una coetanea, era fuggita dalla comunità di Tricase, nelle Cese, dove due ragazzine erano in cura in regime di residenzialità su disposizione dell'autorità giudiziaria. Ad accorgersi dell'assenza delle due ragazze, era stata ieri una delle operatrici della struttura che ha dato l'allarme ai carabinieri. Questi ultimi, nel corso delle ricerche, hanno visto le due minorenni nella zona del porto di Tricase e, insieme all'operatrice che aveva dato l'allarme, le hanno raggiunte. Ma una delle due ragazze, alla vista dei carabinieri, si è tuffata in mare, in quel momento abbastanza mosso. Uno dei militari presenti si è buttato in acqua e ha raggiunto la ragazzina che ha tentato anche di opporre resistenza probabilmente perché non voleva tornare in comunità. Il carabiniere è comunque riuscito ad afferrarla e a portarla a riva, dove la quindicenne è stata soccorsa da operatori del 118.